Un'ottima squadra, quindi dobbiamo essere contenti. Potevamo vincere, potevamo perdere alla fine, ma siamo stati bravi a recuperare. Potevamo far meglio alcune cose, soprattutto nel secondo gol, dove però avevamo un giocatore infortunato che non è riuscito ad entrare a difendere, però abbiamo avuto una buona reazione perché vogliamo continuare la serie positiva e siamo riusciti a portarla a casa. Però ceva fare complimenti alla squadra che ha fatto dieci risultati utili, consecutivi, non è semplice. Stiamo lavorando bene ma dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto un attimo di sfoglia, abbiamo avuto un gioco, ma abbiamo avuto una buona reazione, ma abbiamo avuto una reazione, soprattutto rispettiamo i gols. E oggi abbiamo avuto 1 ponte. Come ho detto le ultime volte, giochiamo partita per partita, l'obiettivo è quello di migliorarci in ogni gara, abbiamo le possibilità per farlo, abbiamo intrapreso una strada ottima da quando abbiamo iniziato dopo la pausa del mondiale, quindi possiamo fare ancora meglio. C'è bisogno ancora di lavorare, limare ogni minimo dettaglio e continuare a far bene da qui alla fine. Grazie a tutti. Grazie.